appassionati di gossip tv bentornati nel mio canale oggi parliamo di una strana frase pronunciata dagli autori del grande fratello vip dobbiamo evitare i contatti con l'esterno con tommaso i fan di tommaso zorzi su twitter hanno pubblicato il video del momento in cui la regia commette la gaff sull'influencer le parole pronunciate dagli autori sono state commentate anche dalla sorella di tommy gaia che ha cinguettato quanto segue se la regia riuscisse a dire frasi più chiare quando fa queste gaff mi farebbe un piacere molti utenti inoltre hanno ribadito di non essere affatto d'accordo con la scelta di prolungare ancora la durata del reality non è più un gioco questo siamo tutti senza parole ha cinguettato qualcuno scagliandosi contro gli autori oppure signorini continua a dire che proprio il pubblico a volere il prolungamento leggendo sul web non sembrerebbe proprio anche gli inquilini della casa non hanno capito cosa volessero dire gli autori devono evitare i contatti con l'esterno oppure no di sicuro hanno sentito qualcosa che non dovevano sentire concludono i vipponi e voi cosa ne pensate gli autori stanno esagerando e poi perché parlare solo di tommaso e non di tutti i concorrenti fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti al prossimo video ciao